Passo alla volta, piano piano. Ma questo vestito hawaiano? O c'è stasera? Shish, è ingestibile. Vedrete delle belle. Fuckboy fa passo alla volta, piano piano. Quello che viene, viene. Il sole tramonta sulle spiagge colombiane e i ragazzi si preparano per la serata. I nostri eroi sono invitati ad un Tropical Party, gentilmente offerto dal nostro sponsor. Che la festa avvia inizio! So fresh! Ma tu ce lo immagini un movimento di bacino e gusto trofica? Grazie Shane! Ma questo vestito hawaiano? Vai, vai! Ma che è quello? Axe on the field! Tra un twerk e l'altro, Siria e Federico si stuzzicano. Uno, due, tre, provo, provo, c'è stasera. Luana e Donato flirtano. Voglio un bacino. Cadi e Stefano parlano. No, io volevo capire, ti piaccio o non ti piaccio? Tu mi piaci, sì. E Cecilia e Manuel sembrano infuocati. Se si convince, andando un attimino, c***o Cecilia. Anche perché mi sta appresso da tutto il giorno, quindi è ora che glielo dia. Immagino che si sia anche bagnata. Secondo me è Cecilia. Ma Cecilia non è la sola con gli ormoni impazziti. La tigre Gabriella è fuori controllo. Prima cerca di riconquistare Gianpaolo. Io questo uomo lo amo follemente. Raga, io non mi innamoro a caso. Shish, è ingestibile. Poi, per raffreddare i bollenti spiriti, si butta in piscina. Poi bacia delle ragazze a caso. Amo tranquilla, mi piace il c***o a me. E infine ritorna ancora dal suo ex. No, ne entro. Mi ne metti. Ti tiro fuori. No. Eh raga, GP è la mia fiamma, cioè. Cosa devo fare? Raga, ne vedrete delle belle, sono sicura. Certo che ne vedremo delle belle. Siamo ad Ex on the Beach. E come sempre accade, la situazione è fuori controllo. Soprattutto Cecilia. Se vuoi un po' di c***o, giusto? Cale po'. Non hai dell'alto qui, vero? Certo. L'alto. Guarda, guarda. No. No, che fa. Mi chiedo a prendere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. N.C.S. Lei è matta. Oddio mio, basta. Qua il barman è andato via. Per i ragazzi in villa è tempo di andare a dormire. Dai Cecilia, però, dai, ma perché devi fare sceneggiati? Altri e mettere il pigiama. Cecilia raggiunge faticosamente il letto, ma vomita sotto lo sguardo compassionevole di Stefano. C***o, se fai schifo, Cecilia. Boh. Anche Gabriella non si riesce a contenere e vomita nel letto sotto lo sguardo compassionevole di Stefano. E poi c'è io, ma io dico, ma c***o, ti fai a sboccare addosso nel letto? Fia, ma alzati, no? Cioè, prendi, corri, vai in bagno. No, oppure, cioè, sporgiti, no? Boh, bocca, bocca, bocca. Dile, dile. Stasera si tro... C***o. Vuole già uscire, vuole già uscire. Sono convinto, stasera si tro... Ma i letti vomitati creano sfollati che vanno a dormire proprio da loro, impedendo a probo di liberarsi. Tutte le speranze sono sulle spalle di Fuckboy. Ha una suite con Luana a disposizione. Donato inizia con calienti baci nell'idromassaggio. Poi la partita si sposta sotto le lenzuola, ma... Non adò, che ti è il tuo posto. Niente. Per la seconda notte di fila, la villa di Exxon Beach resta immacolata. Ma cosa sta succedendo in Colombia? Cosa deve accadere affinché la situazione si sblocchi? Non abbiamo certezze, tranne una. Questa villa non resterà immacolata ancora per molto. Per il metro. Grazie.